La cura dei tumori passa da qui, passa dall'IRCS di Reggio Emilia. Sostienici con il tuo 5x1000. Qui facciamo ricerca per trovare terapie innovative e migliorare la qualità della cura dei tumori. Da qui sviluppiamo una rete di assistenza oncologica diffusa in tutta la provincia. Dona il 5x1000 all'IRCS di Reggio Emilia. Scopri di più su chiricercacura.it